Ciao! Oggi volevo raccontarvi di un film che è uscito diciamo a metà marzo, verso fine marzo, insomma sul 21-22 marzo ed è Priscilla. Priscilla è un film, è una pellicola quest'anno ed è diretta da Sofia Coppola. Allora Sofia Coppola non mi ha mai fatto impazzire proprio. Diciamo che mi sono piaciute le ultime sue due lavori che erano L'inganno e Priscilla. L'inganno l'ho trovato veramente 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 bello e diciamo che anche quello è trasposto da un libro ed è molto bello ma specialmente anche secondo me è anche bello per come è recitato. Chiaramente ci sono degli attori di un certo calibro quindi bene o male questa cosa ha aiutato anche lei a lavorare bene. Quindi chiaramente ha agevolato il tutto. Questo invece è una specie di biopic perché è la trasposizione di un libro anche questo però sono della trasposizione delle memorie della figlia, della figlia di Elvis e Priscilla Presley. Mi sembra che si chiami le memorie scritte dalla figlia. Diciamo allora è una sì una specie di biopic però diciamo è una cosa molto personale perché chiaramente lei ha descritto ciò che vedeva quindi ciò che vedeva ciò che vedeva dai suoi genitori, da sua madre eccetera. Quindi bene o male sì si può dire un biopic diciamo si può dire una sì non è proprio non si sa proprio se è quella la realestà oppure quello che viveva lei dal suo punto di vista. La trama del film, oh sì ok, il film è stato presentato in concorso al festival di Venersia dell'anno scorso e ha fatto vincere la colpa a Volpi a Kaylee Spaney che è l'attrice che interpreta Priscilla che è brava, molto 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 brava. Diciamo che è una ragazza anche adatta secondo me il ruolo. è una ragazzina molto dolce, carina, ha un viso molto tenero, proprio la classica ragazza come dire il viso dolce da bimba, da bambina perché si sono conosciuti molto giovani. Diciamo che lei era molto giovane quindi meno male lui era a metà della sua carriera, lei stava finendo la scuola. Quindi diciamo che era una ragazzina, mi sembra non avesse neanche 18 anni, aveva 17 anni e si sono incontrati tramite mi sembra una festa o degli amici, credo, e praticamente lui la conosce e se ne innamora subito. Per quanto riguarda per me Giacobbe Lordi, per me c'è da aprire un po', non una parentesi, c'è un discorso. Ora Giacobbe Lordi penso sia molto bravo come attore, però secondo me lui è cresciuto, è nato e cresciuto per l'appunto con Euphoria. Euphoria, premetto in dire, mi piace molto, mi è piaciuto molto perché comunque tratta cose attuali, di problemi attuali di giovani, eccetera. Però il problema è che quando tu rimani, ma non solo con lui, anche tanti altri attori, quando tu rimani, voi guardate specialmente gli attori della Marvel, e lui è rimasto per due stagioni, adesso non so effettivamente quanto ci hanno impiegato a, come dire, a girare tutto insieme, cioè tutto insieme, chiaro una alla volta hanno fatto, però tutto insieme, prima e seconda stagioni, non lo so, penso due anni, tre, non mi ricordo, o quattro, non mi ricordo, però comunque lui si è immedesimato nel personaggio di Nate Jacobs, che è un personaggio negativo, manipolatore, eccetera. Questa persona molto, come dire, negativa, manipolatrice, e anche del resto, anche, possiamo dire, non cattiva, ma problematica, ecco. Lui, immedesimandosi in questo, chiaramente, quando tu ti immedesimi troppo, per tanto tempo in un personaggio, come del resto, anche ci sono stati altri, Daniel Radcliffe con Harry Potter, che lui non è riuscito a uscirne, pur facendo anche altri film. Anche, per esempio, guardate voi, Robert Downey Jr., che solo con... Oppenheimer gli ha dato l'occasione di uscire da questo suo personaggio, di Iron Man. Anche altri personaggi, come ad esempio anche Chris Evan con Capitano America. Lui cerca adesso di fare altri film, altri ruoli, in modo da uscirne, eppure la gente lo vede sempre solo come Capitano America, perché comunque ci siamo affezionati più all'attore che al personaggio. Chiaramente lo vediamo sempre, ecco. Jacob Elordi, il suo Elvis, ora, è un po'... come dire, raga... è molto diverso da Austin Butler, che ha fatto Elvis, di Buzz Luman. Ho preferito Austin Butler, questo ve lo dico, ok. Diciamo che... Nel Jacob Elordi è molto... si vede che in un certo senso... Non è che si vede stare... Sì, si vede un po' che ce la sta mettendo tutta quando lo vediamo nel film che si esprime. Però non è... come se non fosse naturale. Perché se tu metti a confronto Austin Butler, o l'Elvis Austin Blatt e Jacob Elordi, c'è un abisso. C'è un abisso, perché uno è abbastanza movimentato, cioè, movimentato, più grinta, secondo me. Jacob Elordi è un po' più... non moscio. Però, diciamo, è un... è un modo di recitare che ha... molto, come dire, pacato. Ecco, pacato, magari, non so, adesso non ho idea... come doveva essere... però ci si vede la differenza, si nota la differenza. Quindi, molto probabilmente... adesso, non è che non sia stato un ruolo adatto a lui, però ci deve mettere ancora un po' per uscire dai ruoli... anche che ha recitato in Southbourne. Jacob Elordi in Southbourne è molto bravo, per esempio. C'è niente da dire. Ma questo perché? Perché va a riprendere molto... non al 100%, mettono un buon a metà, il personaggio di Nate. Nate... cioè, Nate era una persona... usate il termine, stronza, manipolatrice, eccetera. Felix Cutton in Southbourne, no. È una persona, il classico ragazzo, figlio di papà, con i soldi, però non era uno stronzo. Anzi, viene preso in giro. Ingenuo. È una persona... però, comunque, è lì. Siamo sempre lì. e dovrebbe un po' distaccarsi. E in Elvis, si vede, si vede che comunque deve ancora allenarsi, tra virgolette, per uscire da questo suo personaggio. Mentre no, lei comunque è stata molto brava, secondo me, a impersonare Priscilla, come un visetto molto carino, molto dolce, a fare la ragazza, la ragazzina, l'adolescente di scuola che sta finendo gli studi e tutto il resto. E, stavo dicendo la trama, la trama, sì, la vicenda del film è quando loro si conoscono e lei, loro si conoscono a questa festa, se non mi ricordo, penso sia stata una festa, sì, tramite dei suoi conoscenti, tra i loro conoscenti, e lui se ne innamora subito, vuole rivederla, eccetera, eccetera. Però, chiaramente, subentrano dei problemi che adesso, bene o male, subentrano problemi. Problemi che, secondo me, sono un po' non per lui, per lei, chiaramente. Il focus è su di lei, quindi, chiaramente, i problemi, più che problemi, sono non complicazioni. Come dire, quando tu intraprendi un certo, infatti, quando tu diventi la donna di una certa, una certa persona dello spettacolo, specialmente come Elvis, che aveva già raggiunto una sua fama, perché Elvis, quando ha incontrato Priscilla, era, non dico sia alla fine, però era verso, dopo l'ora divorziato e tutto, infatti anche l'Elvis di Buzz Luman arriva a Priscilla, la storia arriva a Priscilla e finisce dopo un 20 minuti, non mi ricordo bene, però comunque è lì che, adesso non mi ricordo, non mi ricordo bene il film di El, di Buzz Luman, dove lo termina, però comunque finisce poco dopo, non dura un'altra ora, perché non dura, nel senso finisce poco dopo, quindi bene o male, e qui bene o male, la carriera di Elvis era già avviata da un pezzo e lei, e subentra a lei, subentrando lei, lui essendo già un'icona, perché Elvis era un'icona della musica, in automatico lo diventa anche lei, perché comunque se tu diventi la donna di un certo tipo di artista, che può essere un cantante, un attore, che però ha una immagine, una visibilità, prestabilità, cioè prestabilità, è già un'impronta, un'immagine, una guida, tra virgolette, un'icona per i giovani, per le persone, è chiaro che anche tu devi seguire quella scia, un po' questo film, dopo vi volevo fare un altro video, in cui vi consiglio i sei film famosi, se vi è piaciuto Priscilla, e volevo metterci Blonde, ora Blonde, come sapete tutti, è un film di Andrew Dominic, non è piaciuto tantissimo, anzi, l'hanno un po' tutti disprezzato, allora, io non l'ho apprezzato inizialmente, non mi è piaciuto, ma perché questo, ma non inizialmente, perché era troppo lungo, ma è tre ore e roba, sapete che io, ok, mi va bene guardare i film lunghi, d'accordo, però mi devi anche dare un certo ritmo, ma perché se è una roba piatta, no, questo qui ti fa vedere tutto, non è un biopic, anche questo, però, non è un biopic, anche questo, è sempre tratto da un libro, che però vede Marilyn, come dire, vede Marilyn come si sente lei, come si sente lei, come si sente lei, nelle variati momenti, quindi bene o male, hanno preso la vita di Marilyn, e questa autrice, ha preso la vita di Marilyn, e ha cercato di far capire, come si sentiva lei, in certi determinati momenti, e noi vediamo, in particolare adesso, che Marilyn diventa, chiaramente, un'icona, e, chiaramente, diventando un'icona, deve seguire un certo, come si chiama, un certo, una certa linea, non può sgarrare, e stessa cosa, può sgarrare, nel senso, non è che può, nel senso, deve essere sempre messa, su piedistallo, deve essere sempre fotografata, eccetera, eccetera, deve avere una certa apportanza, deve avere, deve seguire, delle regole, tra virgolette, e la stessa cosa, cioè ovvio, Marilyn, in questo caso, era lei l'icona, non il marito, o che altro, diciamo, che erano loro, che non riuscivano a stare dietro a lei, per, diciamo, se vogliamo, dirla tutta, sia come Gio Di Maggio, che come Arthur Miller, sono tutte, tutte persone, che comunque, non sono riusciti, a starle dietro, ma perché lei, era ormai, una, un'immagine, troppo, grossa, per, loro, possiamo dire, forse l'unico, era Arthur Miller, ma vabbè, lui, poverino, lui, diciamo, era uno scrittore, e, diciamo, era l'unico, forse, che era già, nel campo, e quindi, meno male, poteva capirla, in un certo senso, gli altri, chiaramente, Gio Di Maggio, era nello sport, era il classico italiano, era, vabbè, qui, Priscilla, invece, deve seguire Elvis, Elvis è già una figura, è già una, un'icona, un'icona musicale, e, praticamente, deve essere all'altezza di Elvis, e lui, comincia a, guarda, mettiti questo, non va bene quest'altro, di qua, di là, no, devi metterti quello, quello ti sta male, cioè, comincia, a non farle a sentire, più se stessa, un po', come Marilyn, si sentiva, in blonde, e lei, infatti, si vede, che, ogni volta, che provava un vestito, diceva, no, guarda, questo mi sta meglio, di qua, di lei, no, 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 devi metterti quell'altro, perché quello ti sta meglio, quello ti sintona meglio, a quell'evento, cioè, deve essere tutto statico, ogni cosa, che lui faceva, lei doveva andargli dietro, ma anche fisicamente, cioè, fisicamente nel vestiario, nei capelli, cioè, lei si cotonava i capelli, quando invece, all'inizio, non gli andava molto bene, portava solo cerchiette, raccalinare, diciamo, che, ogni cosa che faceva, veniva, cronomonitorata, cronometrata, come se fosse, non so, cioè, non era molto se stessa, quindi, anche il fatto di, Elvis la teneva un po', ecco, la teneva sotto una campana di vetro, non la faceva, non la faceva uscire, non gli faceva, fare le sue passioni, se aveva delle passioni, non potesse, cioè, lei doveva, cioè, c'è una frase in cui dice, c'è una frase in cui dice, quando, tu devi, pensa a stare a casa, a parlare, a controllare, a badare, a badare il focolaio, il focolaio casalingo, cioè, insomma, ricordano molto, Elvis ricordava molto, mi ricorda questo, Elvis mi ricordava molto, la persona, l'uomo patriarcale, che voleva che la donna, classico uomo, che voleva che la donna, chiaramente, chiaramente eravamo, dietro a quei tempi, quindi, era un po' più normale, diciamo, tra virgolette, però, diciamo, in questo caso, magari sia una cosa sua personale, poi, dal punto di vista, l'immagine, è chiaramente lì, raga, si sa la cosa, non è che tu puoi andare a destra, e quello va a sinistra, perché se lui, si vestiva in una certa maniera, poi magari, lei, d'accordo, lei si vestiva sempre carina, molto gentile, però non è che si vestiva, però, doveva essere, si può dire, all'altezza, era brutto da dire, perché è molto brutto da dire, però doveva stare, alla sua, doveva, sul suo binario, ecco, quindi, bene o male, i temi trattati sono sempre quelli della fama, della fama, dell'essere messe sotto una campana di vetro, del, devi fare certe cose, non devi farmi altre, devi seguire me, perché io sono, ecco, si può dire anche il patercano, tiriamolo in mezzo, così, patriarcato, di qua e di là, perché comunque c'è un minimo, perché in questo film, comunque, abbiamo un Elfis, molto possessivo, possessivo, e molto tormentato, non è come, sì, lo era anche quello di Buzz Luhman, però quello di Buzz Luhman, diciamo, Luhman, ha evidenziato, in sostanza, la sua carriera musicale, non tanto quella sentimentale, la sentimentale, li faceva da contorno, quindi questo qui, ha più, vi fatto vedere, Sofia Coppola, fa vedere la sua vita privata, quindi molto probabilmente, qui lo vediamo, da un altro punto di vista, come era, nel privato, quindi come la, come lo vedeva la figlia, chiaramente, come lo vedeva la figlia, che poi comunque, alla fine, questo film, e alla fine questo film, si chiude con il divorzio, perché lei riesce a ottenere, divorzio da Elvis, ora, io, bene o male, questo film non ha molto da dire, perché comunque è un, è un film molto carino, normalissimo, non c'è, non ha niente di, speciale, cioè non è, non è come l'inganno, che lì magari puoi dire di più, per le interpretazioni, è la storia anche, perché c'è un, di fondo, una storia, ovviamente diversa, perché in totale, sono due generi diversi, e, sono due generi diversi, quindi bene o male, hai un po' più da dire, dall'altra parte, che in questo, io allora, mi fermo qui, io vi dico sempre, fatemi sapere qui sotto, quello che ne pensate voi, se l'avete visto, niente, spero vi sia piaciuto, e, ciao!